l'Italia è una cosa molto bella, però è una cosa che non avviene, grazie, la politica avviene nonostante la politica. Certo, nonostante la politica, perché gli italiani sono sempre stati un passo avanti rispetto a chi governa. Poi però, al momento di parlare, questa è la rappresentanza, non le persone che abbiamo deciso di fare le decisioni, che cosa succede dopo non lo sa nessuno, non lo può dire nessuno, però non pensi che questa esperienza ci sarà l'inizio.